Incomi in Calabria, volano di sviluppo per l'economia della nostra terra? Sì, è un'importante iniziativa che segna comunque un passo importante verso l'economia del nostro territorio, della Calabria e del Meridione perché qui oggi ospitiamo nella nostra terra un'iniziativa fatta dall'Ice, l'Istituto per il Commercio Estere per fare incontrare la domanda e l'offerta in termini di prodotti agroalimentari di qualità è un progetto che ha coinvolto tre regioni meridionali, noi come Calabria stiamo dando il supporto sul nostro territorio per organizzare e portare un'immagine positiva della nostra terra nei confronti di questi buyer che vengono da un po' da tutta la parte del mondo sono dieci nazioni rappresentate da Hong Kong, Inghilterra, Irlanda, Polonia, Giappone e che incontrano le nostre aziende per valutare i prodotti e quindi poi realizzare anche accordi commerciali come oggi è la giornata proprio dedicata a questo rapporto diretto tra produttori e questa serie di buyer internazionali che hanno interesse commerciali in confronto ai prodotti italiani. Quindi c'è anche, diciamo, oltre al GAL c'è anche il contributo dell'Union Camere? Sì, l'Union Camere e soprattutto Lega delle Cooperative e Conf Cooperative che hanno realizzato questo progetto interregionale insieme all'Istituto per il Commercio Estero. Quindi è un'importante iniziativa di sinergia tra varie istituzioni che ha portato a questo straordinario risultato. Cosa hanno pensato del nostro territorio, gli ospiti che avete avuto, visto che siete andati anche in alcune aziende della Calabria? Ma credo che abbiamo rappresentato una bellissima immagine, almeno dalla loro soddisfazione, di quello che hanno vissuto, di quello che hanno percepito una terra ospitale, una terra che ha grandi potenzialità e quindi ha fatto un'ottima impressione. Incoming Calabria, diciamo un volano per l'economia calabrese e soprattutto con l'apporto anche dai vertici istituzionali. Sì, abbiamo cercato di lavorare con tutte le regioni del Sud Italia, con i fondi che sono arrivati col piano Export Sud e abbiamo cercato di fare il nostro meglio per fare un incoming in ciascuna delle regioni coinvolte, delle regioni della convergenza. Quindi adesso c'è questo incoming in Calabria con cui abbiamo cercato di collaborare con le istituzioni locali. Devo ringraziare soprattutto il Gal Croton, l'Union Camere, Lega delle Cooperative che hanno fatto un ottimo lavoro sul territorio e ci hanno permesso di meglio interfacciarci con il territorio che per noi è la difficoltà più grande da Roma, chiaramente. L'export da questo punto di vista è davvero molto importante, nel senso che diventa un'opportunità di crescita vera, un vero volano per l'economia, un vero valore aggiunto. Quindi puntare per noi in questo momento sull'export significa cercare di far arrivare piovere sulla regione delle risorse aggiuntive che la regione altrimenti da sola magari non sarebbe in grado di creare. Una domanda viene spontanea, come mai si è scelto Crotone? Si è scelto Crotone perché nella provincia di Crotone ci sono buone eccellenze alimentari calabresi, buone risorse, pensiamo al pecorino di Crotone, ma l'elemento più importante forse è il vino. è l'area della Calabria dove c'è la maggiore produzione di vino, non solo una maggiore produzione, ma anche la maggiore qualità sul vino, la maggiore conoscenza, diciamo anche fuori dall'Italia, delle varie cantine crotonesi e del territorio del Cirotano, che insomma fa ormai una buona produzione. C'è una delle cantine eccellenti, forse piccole ancora, però il vino è l'alimento più conosciuto all'estero e quindi era inevitabile che scegliessimo la location di questo tipo. Secondo Lega Coop, quali sono le prospettive future in questo connubio internazionale? Noi stiamo lavorando, le aziende nostre non sono molto grandi, sono ancora piccole, però è un grimaldello, quello della conoscenza dei nostri prodotti all'estero, importante per il nostro futuro. Noi sappiamo bene che i consumi in Calabria calano, i consumi in Italia calano, c'è una crisi che attanaglia un po' tutti, anche i consumatori. Il grimaldello per guardare con fiducia al futuro è quello di valorizzare i prodotti non solo facendoli conoscere agli italiani, ma cercando, come stiamo cercando di fare con questa iniziativa, farli conoscere anche fuori dall'Italia. Fuori dall'Italia c'è una situazione non di crisi, cioè di sviluppo in aree del mondo dove non c'è la crisi, e quindi praticamente c'è un mercato anche più redditizio che se noi non riusciamo ad aggredire rimarremo rinchiusi in un ambito locale e questo bisogna evitarlo. È una giornata importante per l'economia del territorio calabrese? Sicuramente di una sempre maggiore partecipazione delle nostre associate per quanto riguarda proprio Conf Cooperative, ma in generale delle imprese calabresi a fenomeni e eventi come questi che possono aprire nuove opportunità e soprattutto delle fette di mercato che ad oggi sicuramente sono inesplorate e che possono fare da complemento, da cuscinetto rispetto alla crisi del mercato interno che non sembra attualmente essere vicina alla fine. Quindi speriamo che siano attività che possano essere riproposte nel breve e che possano coinvolgere sempre più aziende che comunque possano promuovere le eccellenze che il nostro territorio produce da tempo. Per promuovere queste eccellenze che dice lei, il problema delle infrastrutture, soprattutto aviarie, incide? Beh sicuramente sì, ma probabilmente non è l'unico, perché ad oggi come provavo a dire prima l'approcciare il mercato internazionale per quelle che sono le problematiche nazionali che poi vengono amplificate in regioni come la nostra sono anche quelle per esempio di accesso al credito. Per cui spesso il processo di internazionalizzazione determina l'individuazione di un costo più che di un'opportunità e quindi magari attraverso una maggiore integrazione fra le varie fasi del processo, compreso non ultima anche quella di facilitazioni creditizie specifiche, si può provare, si può pensare che ci sia una maggiore consapevolezza, un maggiore approccio, un approccio più forte a quello che è il mercato estero, quindi la promozione dei prodotti nazionali. Incoming Calabria, una vetrina importante per quanto riguarda il commercio con l'estero? Incoming Calabria, questa è una grande opportunità per un negozio internazionale per Calabria. Cosa pensate? Sì, ovviamente, perché questa è Calabria in Polonia, è completamente non conosciuto. Quindi noi, come importer, proviamo a promuovere la regione, soprattutto i vini e i prodotti, per cui siamo qui, per partecipare e per prendere un po' di conoscenza dei vini, per prendere a Polonia e per prendere i consumatori poloni. Il signore è un buyer, un importatore della Polonia, quindi dice che sicuramente è una buonissima vetrina, un'ottima opportunità ed è proprio quello che loro cercheranno di fare, anche perché la Calabria è una regione sconosciuta in Polonia, in questo particolare caso, quindi cercheranno, per quanto riguarda il vino e il cibo, di diffondere la Calabria e le conoscenze, il know-how che loro hanno incamerato qui in questi giorni. Che impressione hanno avuto dei nostri prodotti e loro, diciamo, in che cosa consiste la loro distribuzione del prodotto? Hanno grandi catene di supermercato, hanno altri esercizi commerciali. Ci faccia capire un po' dove va a finire il prodotto di questo territorio. Ok, quale era la tua impressione sui ultimi giorni, sui giorni, sui giorni? Cosa pensate di questi prodotti? E tu, come importer, sei un proprietario dei mercati, delle piacere? Siamo importer dei vini, basicamente, e lo conosciamo come Magia del Vino, perché importiamo solo i vini italiani. E l'impressione è molto positiva, soprattutto i vini del Gaglioppo, Uve, e poi anche il Greco Nero, Magliocco, cosa altro? Allora, loro sono principalmente importatori di vino, infatti sono conosciuti con il nome di Magia del Vino, solo vini italiani, e quindi quello che cercheranno di presentare in Polonia saranno soprattutto i vitigni autoctoni, vini quindi dal Magliocco, Gaglioppo, il Greco Bianco, il Greco Nero, queste sono le cose che cercheranno di promuovere sul territorio polacco. Concludendo, la Calabria, gli ha fatto una buona impressione? Ok, Cosa pensate della Calabria? È un ottimo posto di vivere e di vivere, in mia opinion. Ovviamente è un territorio stupendo, dove è bellissimo, dove vivere e vivere bene. Cosa pensate della Calabria e del business che state facendo in Calabria? Calabria, come pensate di questo business? il prodotto è molto bello, il prodotto è molto bello, e il prodotto è molto bello, che è molto bello. Penso che comunque i vini sono buoni, anche i prodotti agroalimentari sono buonissimi, per cui possiamo importare in Giappone per la diffusione della cultura calabriese, anche in Giappone. Il vostro business, che cosa riguarda? Vini, altri prodotti, i nostri prodotti, come li commercializzate in Giappone? Vini, e anche nella stromazione dei luogliori presenti l'Antesca. Grazie a tutti i ricordi, per il vino e i prodotti si sono quali gli ingredienti. C'era un'agroalimentari, da ovviamente il risultato che riguarda più va bene. sono molto assai interessanti e poi questa caratteristica del territorio, della cultura calabrese molto diciamo anche a livello nazionale, sia internazionale che nazionale, anche in Giappone sarebbe un'occasione, un'opportunità piacevole anche per i giapponesi. Oltre per il business commerciale, vi piacerebbe venire in Calabria per le vacanze? Viacerebbe venire con la natura, il mare, la montagna, questa bellezza naturale, anche dottore al business, dell'occasione del business, vi piacerebbe venire qua in Calabria. Come vanno gli affari con gli stranieri? Sembra che siano molto interessati quindi ci auguriamo che anche in futuro poi avremo delle risposte positive insomma. Quali sono state le richieste che le hanno fatte di più, su quale tipo di pasta soprattutto? Ma ho notato che principalmente sono interessati proprio ai nostri prodotti tipici, tipo i fratelli, i maccheroni, diciamo che hanno avuto, c'è stato molto interesse da parte loro, anche perché ho cercato di fargli vedere proprio come venivano fatti una volta, quindi diciamo che hanno riscontrato un buon interesse. Quali sono, con chi ha trattato, con quali paesi? Con il paese principale che ha trattato io è stato Hong Kong, con il signor Kerry. Ci sono buone prospettive di commercio? Mi è sembrato molto interessato i prodotti perché sono prodotti formati nuovi che ha detto che lì insomma Hong Kong è molto aperto ad acquisire nuovi prodotti e nuovi formati di pasta. Lei è la prima esperienza che fa con l'estero? No, noi già esportiamo, molti prodotti nostri già vanno all'estero quindi diciamo che siamo rodati. La mia azienda è in provincia di Vibovalentia, a San Costantino Calabro. San Costantino Calabro. Allora, con chi ha trattato principalmente? Quali sono stati gli stranieri che hanno avvicinato, hanno degustato i suoi prodotti? Ma al momento è venuta una persona di Hong Kong, poi è arrivata una persona diciamo della Croazia, ancora stiamo diciamo avanti, abbiamo appena iniziato quindi ancora ci saranno diversi incontri perché abbiamo un programma insomma abbastanza lungo fino a stasera. Avete esperienze con l'estero? Certo, assolutamente. L'azienda fa il 40% fuori Europa, il 20% in Europa e il 40% in Italia. Noi esportiamo Australia, Cana, Stati Uniti, Germania, Francia, Belgio, è un'azienda insomma che è molto proiettata sull'estero, è un'azienda di terza generazione e negli ultimi decenni l'azienda è cresciuta del 300% e quindi siamo molto orientati insomma all'estero, abbiamo un export manager per i paressi fuori Europa e uno per i paressi in Europa.